Vediamo in questo video 9 atteggiamenti che attraggono le donne. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tremasco Ufficiale, seguimi su TikTok e fai donazioni al canale se ti va. Veniamo al tema 9 atteggiamenti che attraggono le donne. Allora, questi nuovi atteggiamenti sono di fatto delle tecniche di seduzione, se vogliamo, passiva. Cioè nel senso che tu non devi fare nulla fondamentalmente di particolare, devi solo manifestare te stesso. E il manifestare te stesso in questo modo attraerà le donne e produrrà anche una sorta di eccitazione, se vogliamo, nelle donne stesse. Quindi devi sviluppare questi nuovi atteggiamenti ed è abbastanza, tutto sommato, abbastanza semplice riuscire a farlo. Il primo atteggiamento è la fiducia in se stessi, il self-confidence. Cioè devi essere un uomo che appare, perlomeno, ma molto meglio esserlo, sicuro di sé. Cosa vuol dire? Come vuol dire? Cosa significa apparire sicuro di sé? Beh, significa che devi fare le cose che ti piacciono, fare ciò che ami, essere, tra virgolette, un uomo che coinvolge se stesso, essere un uomo che si coinvolge nelle cose che gli interessano, non è assolutamente bisognoso, non è un cavaliere servente, non è un lecchino di una donna, non è un sbavoso, non è un morto di figa. E' un uomo sicuro di se stesso, che ama la sua vita e giudica le donne, nel senso buono del termine, cioè non è che perché ce l'hai in mezzo alle gambe e allora, diciamo, devi subito sbavare dietro. Assolutamente no, anche perché ce n'hai tante, hai tutte quelle che vuoi, devi solo scegliere. E questo è l'atteggiamento che devi avere. Il secondo atteggiamento è comunque la cavalleria. Far vedere che sei sicuro di sé, ovviamente, non vuol dire essere il cavaliere servente, essere i cavalieri. Vuol dire essere un gentiluomo, vuol dire rispettare le basic regole del galateo nei confronti di una donna. Questo è molto importante, perché diciamo che le donne sono comunque attratte dagli uomini di classe. E essere la cavalleria, tra virgolette, essere un cavaliere, al giorno d'oggi piace molto alle donne. Il che, ripeto, non ha nulla che vedere con l'essere il cavaliere servente, con essere il lecchino, il tassista, quello non c'entra assolutamente nulla. È assolutamente un qualcosa di inutile. Ma invece essere una persona di valore, una persona, un cavaliere, tra virgolette, che rispetta le regole del galateo, e quindi, non so, puoi aprire la portiera se vai in macchina, puoi, diciamo, farla passare se devi entrare, entrare tu per prima in un locale. Insomma, adesso non sto qui a elencare le regole, magari farò un video sulle regole del galateo da applicare, quelle basic per sedurre le donne. Però rispettale e sarà la cosa migliore. Il terzo punto, che è un altro punto fondamentale, è il senso dell'umorismo. Cioè, devi essere ironico, non devi prenderti sul serio, ma neanche prendere sul serio lei. Essere, tra virgolette, un po' irriverente. Questo è fondamentale, perché se tu sei irriverente, giochi, scherzi, il co-can-funny, un umorismo scherzoso, è molto utile, aiuta moltissimo a conquistare le donne. D'altra parte, un uomo sicuro di sé, ironico, che gioca, scherza, appare sicuramente molto, molto più seduttivo, molto, molto più attraente rispetto a uno che, invece, non fa niente di tutto questo. Questo devi tenerlo presente. Un altro punto è la gentilezza. Devi essere rispettoso e gentile, ma con tutti. Quando una donna ti vede agire, deve capire, deve percepire che tu sei una persona gentile, che sei una persona non grezza. essere rispettoso, non soltanto verso di lei, perché se no sarebbe, ma rispettoso verso tutti. Se vai in un locale, verso i camerieri, verso chiunque, insomma. Ecco, quello ti fa apparire come un uomo attraente, perché appari come un uomo di valore, come un uomo, ovviamente, questo vale sempre le donne di valore. Ora, le sciacquette, le sciampiste, invece, non hanno questa caratteristica. E questo è un punto importante. Poi, un'altra cosa che ti suggerisco, appunto, è quella di fare dei complimenti genuini, non fisici, ma su cose che tu ritieni veramente siano interessanti di questa persona. Cioè, perché se ti piace per qualche motivo, non deve essere un apprezzamento fisico, ma non deve essere neanche una captazio benevolenza, cioè lo fai per le chinaggine, assolutamente no. Ma questo è molto, molto, è molto importante. È fondamentale capirlo. Perché? Se non lo capisci, come dire, se confondi i complimenti con l'essere bisognoso, le chinaggine o cavaliere servente, non ottieni nessun risultato. Beh, poi c'è il settimo che sembra, diciamo, banale, ma non lo è, è la pulizia di se stessi. Molti uomini sono grezzi, hanno le mani sporche, le unghie sporche, le mani screpolate, puzzano, diciamo, perché è l'omma da puzzare, dice, ma questo invece, ovviamente, un uomo che ha cura di se stesso, cura del suo corpo, che si prende cura di sé, beh, è un uomo che piace ovviamente molto di più, che attira, è molto più attraente. Non deve essere bello, è un uomo sempre profumato, sempre a posto, perché ha i capelli, con i capelli sempre in ordine, non i capelli unti e bisunti. Il che non vuol dire essere un manichino, vuol dire semplicemente la pulizia, fondamentalmente. Un'altra cosa che attrae molto le donne è, diciamo, è fondamentale, è, come dire, essere puntuale. Il settimo punto, essere puntuale. Apprezzare il tempo degli altri. E se una donna, però, lei non è puntuale, arriva e dice, grazie, la tagli subito, e dici, guarda, io, a me le persone che non sono puntuali non mi interessano, ciao. E questo è, devi imparare a farlo. Ottavo punto, mantenere la parola. Quello che dici, fallo. Eh, oppure non lo dici. Verrà apprezzato molto dalle donne. Posso garantitelo, perché trovano pochi uomini così. E il nono punto è falla parlare. Perché un uomo che fa parlare una donna e che sa ascoltarla, beh, la seduce già di fatto solo per questo. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E ti do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, mi raccomando, attiva la campanella quando ti iscrivi.